Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla provincia di Sondrio. Appello di confartigianato ai prefetti di Sondrio e Lecco dopo le segnalazioni delle imprese del trasporto pubblico sostitutivo dei treni. Chieste azioni urgenti a tutela della sicurezza di operatori e utenti. Arriva a Livigno la Coppa del Mondo di Telemarca. Appuntamento in località Tagliede il 14 e il 15 marzo quando prenderanno via quattro diverse gare, due maschili e due femminili. Dario Bolzan è il nuovo allenatore di Sondrio, argentino di 48 anni, prende il posto di Fabio Fraschetti. L'obiettivo è tornare a vincere già dalla gara di domenica contro Castel Leone. Erano questi i titoli, vediamo ora i servizi del nostro telegiornale. Azioni immediate e concrete a tutela della sicurezza e incolumità di operatori e utenti. Le chiede confartigianato Sondrio ai prefetti di Sondrio e Lecco dopo che nei giorni scorsi ha ricevuto numerose segnalazioni da parte delle imprese che operano nei servizi di trasporto sostitutivi del treno sulla tratta Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Una richiesta che confartigianato chiarisce nella lettera in cui si chiede alle prefetture di porre in essere azioni per tutelare l'incolumità e la sicurezza, in particolare nelle aree di arrivo e partenza dei mezzi e lungo le tratte interessate dai bus sostitutivi delle corse ferroviarie, serali e notturne. Le preoccupazioni degli operatori fanno seguito alle aggressioni e ai comportamenti intimidatori avvenuti sui piazzali esterni delle stazioni e all'interno dei mezzi di trasporto, creando un clima di insicurezza diffuso tra gli utenti e tra il personale che è sempre meno disponibile a svolgere questi turni di servizio. I rischi concreti, sottolinea Confartigianato, sono da un lato quelli relativi alla sicurezza dei viaggiatori, sia nelle fasi di attesa negli stalli, sia nel corso del tragitto sui mezzi. Dall'altro la disponibilità degli autisti che si rifiutano di svolgere il servizio per comprensibili timori. Lavori al ponte sull'Adda, tra Sondrio, al Bosaggio, al cantiere è stato installato nella giornata di lunedì per il rifacimento dei giunti sulla provinciale. 16 per questo motivo, Palazzo Muzio ha diramato un'ordinanza di limitazione del traffico, senso unico alternato nei territori comunali di Sondrio, al Bosaggio e disagi per gli automobilisti, fino al 2 febbraio, ultimo giorno di cantiere, specialmente negli orari di punta. Per celebrare il giorno della memoria, il comune di Sondrio ha promosso una serie di appuntamenti in collaborazione con l'Istituto Sondriese della storia della resistenza dell'età contemporanea del circolo musicale di Sondrio. La giornata di ricordo si aprirà alle 8.30 con la cerimonia pubblica al Parco della Rimembranza. Le 10.30 all'Auditorium Torelli si tratterà una conferenza in lingua inglese, il concerto sulla Holocaust Music riservata agli studenti degli istituti superiori di Sondrio. Il concerto per la giornata della memoria si svolgerà alle 18 sempre all'Auditorium Torelli, a cura del CID con il duo NITS che proporrà la fiamma eterna, musica dall'Olocausto. Proseguiamo ora con i servizi del nostro telegiornale. Tappa a Sondriese per la carovana dei diritti di CGL, qual è il messaggio che veicolati con questa iniziativa? L'iniziativa vuole accompagnare la discussione in Senato e poi nel resto del Parlamento sul DDL Calderoli dell'autonomia differenziata. Noi siamo contrari, stamattina abbiamo deciso di volantinare davanti alle scuole perché il tema dell'autonomia differenziata non è soltanto un problema di gabbie salariali, ma un problema anche di esigibilità del diritto allo studio, perché significa consegnare l'istruzione degli studenti alle regioni, peggio ancora ai privati. La nostra è una opposizione ferma a questo disegno di legge, noi riteniamo che ci debba essere una cornice nazionale nella quale garantire a tutti quanti, a prescindere dal luogo dove nascono e dove vivono, ho gli stessi diritti. Il diritto allo studio è un diritto fondamentale e abbiamo visto che quando questi diritti fondamentali sono stati delegati alle regioni, come nel caso per esempio della sanità, la situazione cambia e non è sempre cambia in meglio. Abbiamo accolto molto favorevolmente l'iniziativa lanciata da FLC nazionale, siamo appunto stati davanti al Policampus ad accogliere i ragazzi che andavano a scuola. La scuola valtellinese ha enormi criticità e difficoltà in questo momento, ovviamente dettate per una questione geografica. Abbiamo 31 scuole distribuite su un territorio molto complesso. Il problema in questo momento principalmente è quello del reclutamento, in quanto abbiamo difficoltà nel reclutare i docenti in quanto appunto territorio molto disconnesso con il resto d'Italia. Abbiamo oltretutto la problematica sempre per i docenti che vengono convocati di un discorso abitativo, di alloggi. Chi deve cercare casa di vigno piuttosto che a Chiavenna ormai ha delle serie difficoltà. Tutto questo viene diciamo incamerato in un discorso molto più generale che è quello del fatto che la scuola non è più attrattiva da un punto di vista della professione perché economicamente appunto non lo è, ma anche diciamo quello che poteva essere il ruolo sociale del docente purtroppo è andato a perdere molta importanza. L'Alta Valtellina, territorio che totalizza circa 2 milioni e mezzo di presenze annue, sta investendo nel decoro urbano. Il primo impatto è importante soprattutto quando si entra in una località turistica. In questa direzione ci si è mossi, grazie al bando, con dotazione finanziaria di 200.000 euro finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del distretto del commercio Alta Valtellina. Sono 42 le domande accolte, sono stati concessi i contributi a fondo perduto nella misura del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro. Beneficiarie le micro, piccole e medie imprese, le richieste di contributo sono state attentamente vagliate dalla comunità montana Alta Valtellina in qualità di ente capofila. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti in grado di migliorare l'aspetto delle singole strutture. Il bando ha suscitato grande interesse, commenta Roberto Galli, presidente dell'Associazione Mandamentale dell'Unione del Commercio del Turismo di Sondrio e di Federalberghi Provinciale. E questo conferma la grande sensibilità degli operatori nei confronti di questa tematica. L'obiettivo anche in ottico, in piedi invernali, è quello di presentarsi al meglio. Nelle due località a Cinque Cerchi, Livigno e Bormio, sono state accolte 27 richieste di contributo, oltre il 50% del totale. Un progetto importante che la nostra amministrazione ha condiviso fin da subito, afferma Remo Galli, sindaco di Livigno. Questi sono i progetti vincenti, nascono dalla sinergia tra operatori privati e parte pubblica. Con soddisfazione registriamo la positiva accoglienza ottenuta dal bando tra i nostri operatori, sottolinea il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi. È un segnale importante perché evidenzia l'attenzione nei confronti del decoro urbano. Grande soddisfazione anche da parte della comunità montana. Arriva Livigno, la Coppa del Mondo di Telemark. Giovedì 14 e venerdì 15 marzo, infatti, in zona Tagliede, prenderanno il Via a quattro diverse gare, due maschili e due femminili, valide per la Coppa del Mondo di specialità, con la sprint più veloce e adrenalinica ad aprire la due giorni e il formato classico più lungo e tecnico a chiudere il programma. L'occasione perfetta per ammirare alcuni tra i migliori atleti al mondo, sfidarsi in una disciplina dalla forte storicità e dal grande impatto spettacolare. Il Telemark, infatti, come le altre correnti parallele e alternative agli sport della neve più tradizionali, lo sci alpino e lo sci nordico su tutti, è sempre stato di casa Livigno che ha effettivamente supportato e incentivato la sua pratica e promozione. Casa del freestyle e dello snowboard fin dal loro arrivo in Europa, Livigno, che ne ospiterà le gare olimpiche e anche i giochi del 2026, ha saputo accogliere anche il Telemark e aiutarne la diffusione grazie a numerose iniziative costruite con successo nel corso degli anni e ad una community profondamente innamorata dalla disciplina. L'evento arricchisce il già nutrito programma del mese che culminerà con i mondiali junior di snowboard e freestyle, vero antipasto a cinque cerchi. Dario Bolzan, nuovo allenatore della nuova Sondrio Calcio, come mai hai accettato questa impresa a gennaio in questa squadra? Perché sono stato convinto da un direttore sportivo che conosco molto bene, che lo ritengo una persona molto professionale, una persona molto competente, quindi ho fatto delle valutazioni sulla rossa, ho avuto il materiale per valutare la squadra, il gruppo, e sono convinto che si possa fare molto bene. Cosa si aspetta adesso da questi giorni, dalle prossime partite? In realtà io mi aspetterò da loro una sola cosa, la massima disponibilità per assimilare, per apprendere, apprendere, oddio, io non ho tanto da insegnare, diciamo per assimilare quei concetti, quei principi di gioco che gli verranno chiesti. La vetta è a quattro punti, insomma ce la si può giocare tranquillamente per la Serie D? No, è lunghissima, è lunghissima. È normale che ora noi abbiamo un obiettivo molto importante che è quello di vincere domenica. La scelta di cambiare allenatore è maturata domenica dopo la sconfitta a Olginate? Allora la scelta definitiva è maturata domenica dopo la sconfitta, questo è negabile quello che è accaduto e poi ognuno le tempistiche, come ho detto prima in conferenza stampa le sue. Io ho sempre le idee chiare su quello che non è presunzione perché come ho detto prima mi faccio sempre mille domande al giorno su quello che potevo fare meglio, su come potevo gestire le cose però vivendo di questo da tanti anni sono sempre una persona che cerca nel limite del possibile di cadere in piedi quindi la scelta definitiva è stata domenica dopo la sconfitta però come ho detto prima ho cercato con lungimiranza di capire se il trend e la strada intrapesa poteva essere quella giusta mi sono fatto tante domande e poi insomma la risposta è venuta oggi. Come mai proprio Bolsan? Perché l'ho detto prima, perché è una persona con cui ho già lavorato è una persona che conosco, è una persona che secondo me si sposa perfettamente non tanto con i miei concetti e le mie idee di calcio quanto con questa tipologia di giocatori, con questo spogliatore e con questa squadra. E termina così questa edizione del nostro notiziario vi do appuntamento alle prossime, grazie per averci seguito.